Io per la verità conoscendo il senatore Sibili, oggi commissario della FIGC Campa, ho molta fiducia in quanto lui è uno che ha fatto sport perché chi conosce Cosimo Sibili ha giocato con l'Irpine ed era pure bravo. Per quanto riguarda l'impegno, io sono convinto e stra-convinto che essendo avellinese, avendo praticato lo sport, facendo parte del CONI come Presidente, io sono convinto e sicuro e stra-convinto che ci darà una mano a risolvere parecchi problemi che ci sono in federazione. Anche perché, come diceva lei, davvero i problemi sono tantissimi. Quelli sollevati questa sera sono solamente alcuni dei tanti con i quali vi dovete confrontare giorno dopo giorno perché poi alla fine le istituzioni del calcio sono nei palazzi, voi siete sul campo e dovete gestire poi i problemi. Per la verità io non è che adesso critico la vecchia gestione, però a me è capitato spesso di farmi nervosire spesso con la FIGC Campa, non sono mai riuscito ad avere un numero eventualmente che contava nel Comitato Campano quando avevo bisogno delle cose urgenti. Quando ho telefonato mi hanno fatto aspettare un'ora o due ore, a volte passano e non fanno parlare con nessuno, talmente oggi invece sono cinque giorni che sta il commissario, il senatore Sibili, nemmeno farlo a posto, guarda a casa e mi chiamano loro per dirmi delle cose che interessano come società. Quello che è stato detto ovvero le due domande semplici che ho posto erano per dire prima di tutto rispettiamo la democrazia e nel momento in cui non c'è la possibilità che questa fase commissariale con tutti i soggetti che ne fanno parte sia solo ed esclusivamente tecnica e non politica. Il senatore ha dato le sue risposte e ovviamente vedremo quello che succederà soprattutto per quanto riguarda lo tsunami democratico che comunque si è messo in moto in tutta la campagna. Mi lasci passare il termine però, è stato messo un po' in minoranza, si è sentito anche un po' tradito da quanti hanno firmato anche quella carta che per andare alle elezioni ed oggi invece si sono tirati indietro, hanno detto chiaramente se torni non firmiamo. Tre società, Real Forino e tra parentesi ha parlato il direttore sportivo e non il presidente, Sant'Omaso che non ha firmato e l'unico è il Bonito, quindi io i dati li leggo in un altro modo. Se dobbiamo lanciare una provocazione ripartiamo di nuovo con la raccolta firme e vediamo quante ne prendiamo. Così vediamo realmente chi ha davvero la voglia di andare a votare e chi in un contesto del genere non ha il coraggio di alzare la mano e prendere la posizione che realmente poi a telecamere spente ha tutte le lamentele e tutte le riserve del caso. Ma con questo non voglio montare una polemica perché sono stato il primo a fare l'imbocca al lupo al commissario ma sempre nel nome e sempre nel rispetto del bene delle società calcistiche irpine e ovviamente campane.